Buonasera e benvenuti alla TG7 Basilicata, ennesima affiammata al centro oli di Vigiano questa mattina accompagnata da un forte rumore e da un odore nauseabondo. Gli operai, essendo scattato il piano di emergenza interno, sono usciti dall'impianto. Tra i cittadini c'è grande preoccupazione per quelle che potranno essere le conseguenze della fuoriuscita di fumi sulla salute e sull'ambiente. La candidatura dei Giardini di Grassano e dei Giardini di Sant'Arcangelo nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali, su proposta dell'Università della Basilicata, con il sostegno del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, è una grande opportunità. Ad affermarlo è Paolo Colonna dell'Organizzazione Produttori Olivicoli Associati alla Cina Basilicata, che esprime un ringraziamento alle amministrazioni comunali e soprattutto all'Università di Basilicata, che ha curato candidatura e progetto, valorizzando il grande patrimonio di biodiversità e non solo, ma anche il patrimonio storico di queste aree. I due giardini sono infatti la testimonianza del paesaggio rurale storico e sono frutto delle pratiche rurali tradizionali e secolari. I giardini di Grassano hanno un'estensione di circa 250 ettari, si hanno infatti notizie della loro presenza già nel XVIII secolo. I giardini di Sant'Arcangelo si ostendono invece su un'area di 500 ettari e alcune descrizioni di quest'area emergono già nella statistica murattiana dell'Ottocento. Le fasi della candidatura sono gestite dal Ministero per le Politiche Agricole attraverso l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale. Andiamo avanti con l'informazione. Le nonne chef portano Rotondella in diretta sul Rai 1 nel programma C'è Tempo Per e fa il boom di ascolti, portando gli italiani sul balcone dell'Oionio. Le nonne hanno preparato i frizzoli in una piazza agrimita di prodotti tipici da sospiro ai pastizzi, senza dimenticare le rinomate albicocche di Rotondella. Tanti cittadini che hanno fatto sentire il calore alle nonne chef. In prima linea Rosa Gentile, il sindaco di Rotondella. Le nonne chef sono sempre più le ambasciatrici del patrimonio immateriale della tradizione lucana. La nonna infatti è la figura sapiente della nostra cultura, dichiara la Presidente Tiziana Fedele, testimonianza autentica della nostra identità, della tradizione, dei ricordi di infanzia, dell'amore per la famiglia e di tutti gli elementi che costituiscono la nostra civiltà. Andiamo all'ultima notizia. Si va verso la possibile proroga di questo stato di emergenza per il Covid-19. Potrebbe essere infatti esteso fino al 31 dicembre 2020. Sarebbe dovuto scadere il 31 luglio, invece il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbero deciso di allungare i tempi, visti i numeri non ancora rassicuranti. L'obiettivo della proroga dell'emergenza sarebbe consentire al Governo di varare misure urgenti senza passare per il Parlamento e per la protezione civile, acquistare mascherine o ciò che occorre senza dover ricorrere a procedure di gara o concorsi. Intanto ieri, per ridurre il rischio di nuovi focolai di importazione, un'ordinanza firmata dal Ministro Speranza ha disposto il divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei 14 giorni precedenti ha soggiornato e passato sul territorio di 13 Paesi. Per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.